Devi guardare là? Sto guardando là Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo, devo dire, dopo 4 anni si può dire nuovo video Allora, ti devo dare tante spiegazioni ma non è il video che fa il caso nostro Quindi adesso non parleremo di questo Oggi siamo qua con... Martina E chi sei? Con Sorrento E qui è la pagina Asian Taste, questa pagina qui Mi ha mandato una mystery box dei loro snack E adesso la apriremo con voi Questa è la box L'abbiamo aperta e c'è un sacco di roba Sei pronta ad assaggiare queste cose Vai Iniziamo da uno snack, da una bibita, snack dolce, salato Pesco Pesco No, sono fonsi gli hamburger No, metti a poco, metti bene a poco, metti la mano Ma non la mano, è più grande delle nostre panze Devi andare a un voto? Sì, da 1 a 5 Ok Sono buonissime Sono buonissime 8 Cosa ne pensi? Non mi fanno impazzire Io da 1 a 5 do 4 3 e mezzo Adesso scelgo io Le patatine alla pizza L'odore, Martina Sono pure un po' unte Ho paura Massimo, dobbiamo aspettare Ok 3, 2, 1 3, 2, 1 Cioccolato Abbiamo dimenticato l'acqua Infilatevi di me Andate sulla pagina Asian Taste E comprate le patatine al hamburger Io sono Mi tocca a me pesco Lei pescherà, io scelgo I mochi Ragazzi ricordatevi questa esultanza Io non ho mai mangiato un mochi Che bello Un mocio Un mochi Che belli che sono Ok Ok Vai Io li amo Le patatine alla pizza Do 2 Io 1 E di questi 3 e mezzo Ma sono buoni Ora io scelgo Ah vabbè lei Sono solo plastica Le patatine al granchio Le patatine al granchio C'è comunque una marcona Com'è? Un patatine Tu le mie mie Ok Cheers Oh sono buone però A me piacciono Patatine al granchio Consigliate 1 4 1 Scelte io le patatine Cioè le hai scelte tu Ma non è vero Le hai scelte tu Le hai scelte tu Le ho scelte io Sì io ho scelto i mochi Altri mochi No raga Mi è venuto a piante Il mochi è il burro d'arachidi Vabbè dai Il mochi è il burro d'arachidi Per la gioia di mia sorella Questi qua li amo a mia madre Quindi asiantese Stai guardando questo video Se vuoi mandarmi una sfilza di mochi e il burro d'arachidi Anche io li amo in realtà Questo è il mochi È fatto così Sono tipo dei dolcetti di riso Questo è buono Vuoto 4 Adesso voglio passare al salato Voglio assaggiare queste Che sono famosissime Di cosa dovremmo sapere pesce? Non lo so Ho paura Sono tutti gli animali del mare Quindi assaggiamole Non promettano male Oh che carino Ma è carissimo Benissimo Io ho trovato un pesce Sono buoni Sono dolci Ma perché? Pauvo che non devo riempire l'acqua Adesso sceglie? No Si posso scegliere No Te alla pesca Questa raga è bellissima È la mia preferita di tutta la box Majin Bu Non metta poco C'è scritto C'è scritto che è acqua trizzante Martina Che piazza Ok Credo che sappia un po' di chimico Sentiamo un po' L'odore è quello del tè alla pesca Vedete? Sprite Dalla pesca Non so A me non fa impazzire il tè alla pesca C'è Però è buona Buona raga È lievemente Coca cola alla pesca Buona buona raga Ma è buonissima C'è il fatto che sia trasparente Buona raga E poi vorrebbe Esatto E Magin Bu Adesso tocca a me Pesca anch'io Biscotti di pini cioccolato Mini Corino Sono cioccolini Guarda che belle Le scatolette Stupendi Cine C'è il pangli spagna Buona Questo qua Sembra una torta È buonissima Quattro e mezzo Io raga Do cinque Vai Marti No Raga Questa io mi ne fiume No No Sì ma per favore Io non mangio manco il sushi Assaggiamo l'alga No L'alga del sushi Aromatizzata all'aglio No Io salto No no Semmi di zucca Non so No Sì Sì ma non lo mangio Se questo video raggiunge mille like Mia sorella assaggia Questo Ok Pensavo dovesse aprire Olli Se questo video raggiunge 3000 like Mia sorella apre Olli Fans Adesso Martina Le facciamo ripescare La parte Dorella Che I pochi I pochi Raga sono molto Sono molto più belli Dei mikado Anche il pochetto Guardate che Io spero Sono buoni Sono buonissimi Sono buoni Buoni Un 4 perché Li conosciamo già Però raga Sono buoni Mi hanno salvato raga Adesso Io so già Che andrò a prendere Perché mia sorella Sa che Ci sono Vari tipi di oreo Quindi proveremo Alla pesca Gli oreo Al tè Alla pesca Sono Nuovi Che belli Raga Questi E pesca Pesca Vai Non la sento Stavendo Io si Non mi fa Impazzire Perché Peggio di Quello Non c'è Niente Cos'è Secondo Un bel bottiglione Prendi Prendi Il bottiglione Ehi No No Ha toccato il bottiglione L'ho visto Lo stavo per prendere Allora La forma La forma Cosa sembra Anzi Amuri Sì Sì Guardi lo sciroppo No Simo Raga Sali il sciroppo Puro la banana L'ho come È quello Io Pissi Non so Non so Raga No raga Ma questa roba È tutta Il limite Ma cosa È buono Collutorio Non è male Dai Due Adesso ce l'ero io No Ma questi piacciono a tutti Tranne che a te Io gli do No scusa Questa è una tartaruga Sì C'è che poi le forme Sono Carine Hai No Sì ma non ce lo faccio Sono buoni Questi sono buoni Sono salati Le buste sono uguali Questi sono snack croccanti C'è un ingrediente segreto Che non ti dico Mangia più È l'aglio No No raga Io ho questo brutto pizzola Quando son piccola Di annusare tutto Prima di mangiarlo Sbagliato Mettilo tutto in bocca No Cine Oh Sai di hamburger Pure questo Senti dopo Ficca Tutto a polvere di peperoncino E lei lo odia Il peperoncino L'ultimo Questo al mais Al mais è al sale Quindi dovrebbero essere più dolci Sono fatti così Sono arachidi questi Sono arachidi questi Prendi questo Lo sento che picca No raga picca ma è buona Buona? No basta Ringraziamo ragazzi di Asante E siete stati gentilissimi a mandarci queste cose Buonissime Mandatemi molti più rotolini al cioccolato Andate a seguire la pagina Asian Taste Adesso la seguirà pure Martina Vero Marti? Grazie Grazie Cordelissimi Sempre attenti a qualsiasi cosa A fare le sue spedizioni Vi consiglio di acquistare da loro Perché hanno Una vasta gamma di prodotti Quindi seguiteli Comprate da loro Ho cercato un pezzo di peperoncino Io e mia sorella vi ringraziamo Per aver guardato questo video Se volete vederci assaggiare qualche altra box Consigliatecela qua sotto Se volete un altro video con mia sorella Ve lo porterò Ricordate di seguirmi su Instagram Seguite Martina su Instagram Tutti i social li trovate in descrizione Seguite la pagina Noi vi ringraziamo Vi mandiamo un grosso bacio E ci rivediamo al prossimo video Ciao Ciao